Un gol regolare annullato per l'Agropoli che esce a testa altissima dal girau di Torre Annunziata contro la capolista Savoia. Primo tempo con i padroni di casa che cercano di imporre il gioco ma l'Agropoli regge l'urto e sta in campo con personalità non disdegnando ripartenze veloci. In una di queste Sosero si trova tu per tu con Maiellaro che si fionda a terra e devia il tiro dell'attaccante agropolese. Anche Carezza si comporta bene deviando in bello stile due conclusioni di Meloni ma dei biancoscudati c'è poco altro. 1-0-0 che nella prima frazione ci può stare ma l'Agropoli lascia un'impronta quella della squadra che c'è in tutte le sue componenti. Inizia la ripresa gli ultras del Savoia splendidi non smettono mai di incitare la propria squadra immaginando l'arrembaggio. Tarallo lotta su ogni palla ad avanzo corre sull'out e sterza verso il centro tiro a giro fulmineo e palla che sta andando nel set ma Maiellaro ci arriva davvero non si sa come devia in angolo. La squadra di Pirozzi gira a meraviglia Panini e Scognamiglio disinnescano fenomeni come Tiscione e Meloni. Giraldi e Platone giganteggiano su Deliguori e i giovani Gargiulo ed Esposito. Mister Pirozzi completa il suo piano tattico inserendo Capozzoli in luogo di Sosero dimostrando di averla studiata eppure bene. L'Agropoli avanza il baricentro e comincia a dare continuità alla manovra d'attacco. Punizione dal limite schema perfetto dell'Agropoli che mette guarro solo davanti al portiere. Il numero 3 ex Savoia di testa scavalca Maiellaro ma solo per un attimo perché l'estremo difensore Opolontino mette le ali. La reazione del Savoia è sterile, qualche ripartenza ma sempre su errori in disimpegno ed ancora l'Agropoli a recriminare. Cross dalla fascia, Scognamiglio stacca di testa e insacca. Gli spettatori in tribuna sbiancano, i giocatori esultano ma detta di Mantova decide di farsi ricordare a nulla senza motivo, adducendo un fallo in attacco inesistente al difensore agropolese. Capozzoli va via in serpentina, si presenta solo davanti a Maiellaro, tira ma oggi non c'è niente da fare. Maiellaro da torre annunziata, santo subito. Dall'altro lato calcio d'angolo su errato disimpegno agropolese, palla in area, palla che schizza sotto le gambe di Tarallo, rimbalza sul palo, poi sul ginocchio di Dattilio e infine su quello di Terracciano e pallone che rantola in rete con la lentezza di una coltellata a tradimento. La gara finisce, il Savoia vince, perde l'Akragas, la Serie C si avvicina ma se la merita e la merita il Savoia, la merita anche l'Agropoli, così convincente da sembrare la capolista. il campionato che è davanti, in casa aveva vinto tutto e facilmente le partite, venire qua e secondo me essere padrone del campo è un motivo per il gol da parte della squadra. Cosa vi è mancato onestamente per vincere la partita? Forse veramente solo il gol? Sì, c'è anche la bravura di Maiellaro che si è superato in 3-4 occasioni e poi c'è quell'episodio secondo me incredibile che l'arbitro hanno avuto il gol di Scognamino è una cosa secondo me assurda. Però gli episodi fanno il calcio e noi ci mettiamo le ferite e continuiamo avanti. Se una sconfitta, abbiamo detto prima che brucia, c'è un pericolo calo psicologico nei vostri giocatori? No, assolutamente. Questa non è una partita dove ci faceva cambiare il verso della classifica, anche se oggi credo che ci abbiano superato 3-4 squadra. Noi siamo convinti e consapevoli che siamo una squadra fortissima. Vogliamo arrivare dove ci competono, lì sopra. Noi saranno il secondo e il terzo posto. Ogni partita per noi è una partita fondamentale. Quindi a qui la fine credo che la squadra abbia dimostrato oggi di poter andire a posizioni che si è più importante. Sapevamo che la partita era difficile da affrontare l'Agropoli, una delle migliori squadre, nella ripresa della seconda parte del campionato. Sul nostro campo giustamente siamo un po' più determinati. Siamo riusciti ad andare a gollo con Terracciano dopo un calciatore di raddangolo di Bizzarro. Penso che sia una domenica splendida perché abbiamo avuto un risultato positivo da parte nostra dei tigini della Cavese che sono riusciti a vincere con una trivetta di De Rosa. Quindi vi facciamo un augurio di un grosso ritorno in campagna e vi ringraziamo di quest'altro passo passo dell'Agragas.